lotta Pacione, pallone che arriva comunque dalle parti del Verona, c'è la possibilità di costruire il contropiede, adesso avanza anche Di Gennaro Di Gennaro allarga, pallone che può essere recuperato da Sacchetti, Sacchetti ancora per Di Gennaro Mezzo per Pacione, Pacione tocca, si può andare al tiro, ecco Elkier, posizione regolare, posizione regolare di Elkier, il tiro di Elkier, pallone che va in rete E il gol, è il gol con il quale il Verona va in vantaggio adesso al ventunesimo esatto è stato Elkier che ha potuto sfruttare una manovra corale, iniziata a lungo, portata a lungo avanti da Di Gennaro, da Verza, da Pacione poi con un pallone che è filtrato verso Elkier, il controllo, il dribbling all'avversario, il gol e il pallone alle spalle di Cristian quindi al ventunesimo vantaggio del Verona contro lo Sportool di Bucharest, 1-0, ha marcato il punto Elkier